Il mese prossimo 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 Bene, abbiamo di nuovo un piccolo problema che avevamo tempo fa Il pedale dei freni va giù Infatti più volte ho rischiato di allungare un po' le staccate Però penso che adesso qui in assistenza Il mese prossimo Il mese prossimo Perché sul bagnato è un po' la 106 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 è un po' penalizzata a confronto alle 4 rodoni motrici Non me l'aspettavo, infatti non credevo veramente quando vedevo quei tempi Quindi immaginiamo l'emozione a ieri sera E' un pow�o che sono i paud玻io di cui sono tenerealmente secondo me il mese discussed as легко received iniziò che mi dannoSSP nok Seattle esistirà il c'è un po' la 1,6 Son I nostri in boccalupo Mario, a dopo Crepi crepi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.